la nonna non è contenta che vado in via in macchina no per niente perché ha paura che quelli ubriachi mi vengano addosso ma no può succedere ogni disgrazia magari c'è la nebbia magari c'è lo sfalto gelato invece con l'aereo bravo ma andai e via non guidavi te io ero più sicuro poi non battere d'occhio arrivo verrà andare a roma quanti ore ci vuole ma sei ore ci vuole già due arrivare a milano dall'altra parte io non è che vado a saltarmi la guarda che ci vuole il miele adesso ci vuole un bel goccio di latte miele come il gallo del michele stavo dicendo ci vuole più tempo andare in treno che in macchina perché in macchina devo andare in treno devo andare fino a milano vuol dire un'ora poi ci sono tutte le pause tutto aspettare tutti i cambi dell'ora e poi il treno per un roma e arrivo là e non ho la macchina per muovermi se devo andare e perché tu amico non c'è la macchina sì ho capito non è che fa il taxista per me già che mi ospita non mi sembra almeno carino non essere ma poi metti che io succede qualcosa devo tornare prendo la macchina e torno non mi convinci comunque contento te però non venire no paura che ci succede qualcosa è questo il problema c'è posto questa tosse questa tosse non ho preso perché sono andata fuori senza niente ma perché è sempre per sbagliare per non farle giuste se devo tirar le orecchie è così adesso sono coperte non ho trovato quel bel cappello rosa ma adesso cerchiamolo è incredibile perché è tutto così in ordine è tutto ogni cosa è il suo posto per lasciare la magia uno lo racconta ma qualsiasi cosa uno guarda è al suo posto cioè non ti chiedi mai perché quella cosa è lì è proprio il suo posto in mezzo al corritorio ma migliora sta migliorando e le piace nascondere l'ovvio perché chiaramente nessuno ha mai visto che non è un pochettino disordinato c'è in giro mi fai tossire non dire che sono disordinata io da questo momento ma io trovo sempre tutto e quel cappellino lì e questo potrebbe essere l'ultima bugia dell'anno no fai tempo ancora a dirne due o tre per me è andato giù dai vediamo il caffè che siamo in ritardo dai su dai 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 che vincerai perché parti stamattina